Sostanza stupefacente che continua ad essere introdotta nel carcere di Salerno. L'ultimo episodio risale proprio a questi giorni ad introdurre lo stupefacente all'interno della casa circondariale di Fuorni, una donna che è stata poi arrestata dal personale di polizia del settore Colloqui, trovandola in possesso di cocaina e di circa 50 grammi di hashish. Un fatto non circoscritto ai giorni scorsi, perché episodi di questo tipo si verificano con una certa frequenza all'interno del carcere salernitano. Proprio nei mesi scorsi il procuratore di Salerno Borrelli ha messo in evidenza come all'interno della casa circondariale si replichino le dinamiche esterne con droga che si prova ad introdurre e che quindi circola all'interno del carcere. L'episodio è stato reso noto dal SAP, il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, che continua a denunciare la situazione di criticità e caos del carcere salernitano, ma non soltanto, evidenziando come le gravi carenze di organico della Polizia Penitenziaria della Regione si ripercuotano ormai in maniera sempre più preoccupante sull'ordine e la sicurezza, sempre più difficili da garantire all'interno delle carceri campane. Siamo fiduciosi di interventi concreti e se non dovessero esserci siamo pronti ad azioni significative, ha detto il segretario regionale del sindacato Tiziana Guacci, per ottenere sicurezza e tutela della categoria. Necessario quindi intervenire sulla carenza di organico, sulle aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, sull'adeguamento delle risorse contrattuali e sulla dotazione del taser e della tecnologia, supporto della sicurezza, ha detto invece il segretario regionale Donato Capece, che sottolinea come dal 2023 si siano registrati oltre 1700 casi di violenza e oltre 8000 episodi di minaccia, ingiure, oltraggio e resistenza nelle carceri italiane. A Salerno, soltanto poche settimane fa, all'interno della casa circondariale di Forni, ci fu l'omicidio di un detenuto magrebbino aggredito e sgozzato da un connazionale armato di Lametta. Grazie a tutti.